che è un'ottima persona ed è andata spesso in carcere a fare delle visite Michele da Torino, Michele da Torino, Michele dimmi E naturalmente il terremoto che c'è stato in Turchia è stato per un attacco ART Un attacco? ART H-A-R-T ART Che cos'è un attacco ART? L'ART è un sistema che proietta microonde nella ionosfera Può fare terremoti, può modificare il clima Scusi, da chi è stato provocato? Non ho capito da chi è stato provocato Vada a fare in culo Da chi è stato provocato questo terremoto? Vada a fare in culo Come si permette lei? Vada a fare in culo L'altro giorno mi sono vergognato Ho chiamato a nome di Abramo da Milano, vi siete cagati sotto Ma una vergogna, ho provato una vergogna per voi due E' bastato chiamare a nome di Abramo da Milano Quello Parenzo faceva i nomi dei grandi personaggi che conosce, si vantava di conoscere Tu Cruciani proprio sei diventato piccolo Ma di cosa stai parlando? Io manco so di che cosa stai parlando Che vergogna Ah, quello dei sauromati sei tu Quello dei sauromati, si Che lecchini Che schifo va, veramente Ma che cosa vuoi? Ma che cosa vuole questo qua? Lei non ha nulla da fare, vero? Lei non ha nulla da fare, perché chiama molto spesso Andate a fare in culo, tu c'è due Ma di cosa stai parlando? Lei è i suoi sauromati del cazzo Lei non ha nulla da fare, giusto? Lei si è creato degli amici immaginari che sono i sauromati Perché lei è una persona sola Allora...